1923-2023, 100 anni di storia dell'Arezzo con tante iniziative per celebrare questo importante avvenimento, questa ricorrenza. Tra le tante ce n'è una proposta dal Museo Amaranto, la realizzazione di un volume con all'interno le migliori fotografie che raccontano la storia dell'Arezzo. Ne chiediamo i dettagli a Stefano Turchi, fondatore del Museo Amaranto. Il desiderio nostro è quello di presentare un volume prettamente fotografico con le foto, a nostro giudizio, più belle e difficile definirlo, anche perché l'idea nostra era di fare tre volumi iniziali. Poi a livello economico si è capito che già è difficile farne una e quindi dobbiamo restringere tutto quello che è nel nostro archivio in 300 foto. È già stata effettuata una selezione, voi sareste pronti, rinnoviamo l'appello per cercare chi possa sponsorizzare e finanziare questa iniziativa. Quello che chiediamo a chi ama le aziende, a tutti, chi ama la maglia Amaranto, se economicamente ci può aiutare a sviluppare quello che per noi è un sogno. Il primo sogno era quello di creare il museo, che anche se è un museo povero è un museo che esiste. Il secondo era di chiudere questo amore in questo volume perché volumi fotografici non sono mai stati fatti e quindi aiutateci a realizzare il nostro secondo sogno.